we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e porca miseria ci siamo confermata ieri sera intorno alle 18 e 30 19 la patch 8.4 una delle ultime di questa season numero 8 non ne mancano tantissime patch davvero molto molto attesa da tutta la community di fortnite perché dovrebbe portare un bel po di novità nel video di oggi parleremo e approfondiremo appunto quello che sarà questo nuovo aggiornamento davvero tanto atteso ma si parlerà anche del mistero del lago ho dei file da farvi vedere che potrebbero essere inerenti all'evento imminente che dovrebbe accadere si spera nella giornata di oggi o comunque molto molto presto al sponde alle sponde del saccheggio e ragazzi tornano gli aerei una nuova modalità sembrerebbe che sia in arrivo e ne parleremo ne parleremo insieme ragazzi ma prima voglio ringraziare tutti quelli che ogni giorno utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima però ragazzi è dai la domandina ve la devo fare dai mi raccomando i vostri commenti qui sotto va che li leggo è dai che li leggo ed è una domanda davvero molto molto semplice ma tu rivorresti il ritorno degli aerei in game? io ragazzi no no non rivorrei gli aerei in game perché erano diventati davvero molto fastidiosi e secondo me rovinavano spesso e volentieri la parte prima dell'end game cioè magari facevi dei fight con dei team un team contro un team e per caso ti arrivava l'altro team con l'aereoplano che distruggeva tutto io non li rivorrei in game ma ditemi invece la vostra qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare due secondi appunto dell'x4 storming praticamente il nome ufficiale in gioco dell'aereo come sappiamo la season numero 7 è stata appunto caratterizzata da questo veicolo che appunto ha stravolto il gameplay almeno all'inizio e poi lo ha ristravolto dopo che molti giocatori hanno davvero cominciato a destreggiarsi con gli aereoplani ma ragazzi sembra davvero che con la pace 8.4 quella che arriverà tra pochissime ore potrebbe arrivare una modalità a tempo limitata contenente gli aereoplani tra l'altro sembra anche che ci siano delle sfide con tanto di premi è stato trovato nel gioco nei codici del gioco questa stringa che dice you've complete an air royal challenge enjoy your reward hai completato la royal challenge la air royal challenge goditi il tuo premio quindi ragazzi non sappiamo in che modo e quale sia il premio ma è molto probabile che ci sarà un ritorno non si sa quando magari prestissimo o magari già questo pomeriggio chi lo sa chi lo sa ma andiamo avanti e parliamo di quello che è appunto uno degli argomenti del giorno il tempo di inattività programmato quindi il downtime dei server è confermato nonostante avessimo già avuto un downtime lo scorso aggiornamento alle ore 10 di oggi quindi fra tre orette circa arriverà il downtime non dimenticatevi ragazzi di seguire la mia pagina instagram perché pubblico praticamente in tempo reale tutti i leaks presenti troverete le nuove skin se ce ne saranno i nuovi picconi i nuovi deltaplani se ci sono dei le nuove schermate di caricamento perché verranno inserite anche quella e probabilmente tutto quello che ci sarà extra pagina instagram xyuder mi raccomando ecco qua il tweet ufficiale da parte di epi games che dice hit your mark colpisci il tuo bersaglio il downtime della pace 8.40 inizierà questa mattina alle 10 ma andiamo avanti perché c'è il mistero del lago in questa pace ragazzi guardate questa immagine non è l'unica che voglio farvi vedere questa immagine è stata presa da un giocatore da mobile che si è soffermato a guardare il riflesso del cannocchiale presente nell'elicottero che oramai si è stanziato a sponde del saccheggio da un bel po di giorni quindi abbiamo capito che ha terminato il suo giro della mappa ragazzi sembra davvero che il lago si stia prosciugando comunque la quantità di acqua che dovrebbe essere quella lì azzurra è veramente molto molto ridotta e tutto intorno si vede la nuda roccia quindi ragazzi sembrerebbe questo è quello che viene sospettato che il cambiamento del lago sia davvero evidente e questa invece è un'immagine molto più interessante e anche molto più ufficiale se vogliamo dire così perché fa parte da pochissime ore dei codici del gioco quindi siamo come sempre nei codici sorgenti sembra essere un effetto che subirà l'acqua del lago per un probabile evento quindi non si capisce nulla però si sa che quindi qualcosa c'è o comunque l'acqua si muove potrebbe finalmente essere un nuovo evento in game che vedremo non lo so io vi faccio vedere ragazzi quello che trovo e ovviamente a voi l'interpretazione ma guardate invece questa immagine ragazzi è veramente impossibile non rendersi conto che c'è una notevole sommilitudine similitudine che cavolo è sommilitudine similitudine nella vecchia mappa che è quella che vedete di là dove non so se vi ricordate ogni cratere dei meteoriti unendoli davano la forma di kevin del cubo beh ragazzi sopra la mia testa c'è la mappa corrente e qualcuno ha avuto l'idea di unire tutti i vari punti degli accampamenti dei pirati ragazzi formano nuovamente kevin non dico altro non dico altro ma la cosa è molto molto strana è forte questa immagine ragazzi parliamo un attimo finalmente dei vbucks che vi avevo anticipato nel titolo del video di oggi vi ricordate che c'è stato l'errore della skin birdie quindi quella del golf che alcuni di voi hanno acquistato a 1200 vbucks vi posso garantire che epic games ha cominciato a restituire i 400 vbucks extra che ovviamente non dovevano essere spesi in quanto era un bug dello shop la skin è non comune il prezzo era 800 vbucks quindi se per caso tu hai acquistato la skin a 1200 stai tranquillo che prestissimo ti arriveranno i 400 vbucks che hai speso in maniera ovviamente sbagliata ma andiamo avanti ragazzi e vediamo anche molto brevemente il nuovo quartiere arriva il nuovo bloc ragazzi che va un po a riprendere un quartiere che già avevamo visto il castello medievale molto bello anche questo blocco con una particolarità che forse non tutti hanno notato c'è una campana ragazzi voglio che proviate a sparare alla campana o a colpirla con il piccone ragazzi davvero molto curioso questo anedoto ovviamente immancabile il chest leggendario presente nell'edificio quello che rimane più vicino al lago del quartiere al bordo esterno della mappa al mare c'è nel piano terra il chest leggendario che quindi vi garantirà ovviamente un'arma leggendaria e un loot abbastanza interessante beh ragazzi io per oggi ve ne ho dette veramente tante non vedo l'ora di vedere la pace 8.4 spero che anche per voi sarà così ma per adesso vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 live ciao 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 ciao